Il decreto è entrato in vigore a ottobre del 2018, ha un numero significativo, il decreto numero 113, 113 perché coniuga e lega quella vicenda che certamente non è emergenziale della migrazione a quella della sicurezza. Quella della migrazione è il punto sostanziale e centrale direi che è quello dell'eliminazione di una delle tre forme della protezione internazionale che è la protezione umanitaria. Tanti altri elementi si determinano, si espande l'area della possibilità di detenzione amministrativa, cioè di detenere una persona in relazione a una sua irregolarità amministrativa e non perché abbia commesso un reato. Si arriva a un punto che non era mai stato previsto, sia pure collegato all'accertamento di gravissimi reati che è quello della revoca della cittadinanza acquisita per naturalizzazione. Il decreto e la legge successiva di conversione sono la diretta conseguenza di un discorso pubblico basato sulla criminalizzazione del fenomeno delle migrazioni e delle richieste di protezione e asilo che va avanti ormai da anni e poi in maniera sempre più costante un po' caratterizza il momento per raccogliere il consenso dell'elettorato. Poi ci sono tanti problemi di costituzionalità a partire dall'utilizzo dello strumento del decreto legge, qual era la necessità ed urgenza, non siamo di fronte a un fenomeno temporaneo e anche la costituzionalità del decreto in relazione alla non omogeneità delle materie. Abbiamo visto disposizioni di carattere penale, disposizioni che riguardano i beni confiscati alla mafia, questioni che riguardano la protezione internazionale, questioni che riguardano la cittadinanza, tutti insieme in questo mostro legislativo, la cui tecnica di redazione è stata in casi simili più volte sanzionata dalla Corte Costituzionale.